Buonasera a tutti, una notizia appena arrivata. Dai test fatti domenica sera alla Casa di Riposo, su 26 tamponi eseguiti, uno è risultato positivo ed è il tampone di un ospite della stessa Casa di Riposo, la Grande Quercia. Ho attivato immediatamente sia i medici dell'USCA, sia il servizio di epidemiologia dell'ASP. Domani il soggetto in questione verrà trasferito in un Covid hotel, la Casa di Riposo verrà sanificata e si tornerà ai ritmi normali in termini di personale perché nel frattempo il dipendente della Casa di Riposo si è negativizzata. Un altro positivo, e quindi salgono così a 10 positivi, un altro positivo è venuto oggi, è stato comunicato ed appartiene ad un cerco familiare dove già c'erano dei positivi. Quindi qualche giorno fa avevo dato notizia di 9 positivi, oggi i positivi sarebbero 11 ma con la negativizzazione di 1 ritornano ad essere 9. Quindi 9 sono i nostri concittadini positivi a Covid-19. Invito tutti ed è un invito di sollecitazione e di determinazione. Non potete fare, non ci possono essere assembramenti. Le forze dell'ordine sono autorizzate, e lo stanno già facendo, ad evitare tutto questo. Non si può vedere la gente senza mascherina, con assembramenti, non è possibile. È un momento molto delicato e il senso di responsabilità è richiesto a tutti. Ieri sono stati fatti 131 tamponi alla scuola media, tra docenti, alunni e genitori. I 130 sono tamponi istantanei, i tamponi rapidi, sono risultati tutti negativi. Ne sono rimasti 39 che verranno fatti entro la settimana. Queste sono le notizie che mi sembrava opportuno e doveroso darvi. Se ci sono aggiornamenti sarà mia cura farlo come ho fatto sinora. Grazie a tutti per la collaborazione e soprattutto stiamo attenti perché dai nostri buoni comportamenti ne dipende la sicurezza degli altri. Buona serata.